Direttore, a parte il finale di giornata un po' concitato, c'è stato un finale di stagione che possiamo dire ci ha restituito un pietra che in questo percorso che sta facendo quest'anno non può che dirsi soddisfatto del campionato fatto. Ma guarda, io parlo della stagione dalla Z, dal primo giorno in poi, perché poi è troppo semplice parlare solo dei momenti belli, dei momenti felici, ma per arrivare a giornate a giocare partite come quella di oggi bisogna passare anche da momenti brutti, da momenti difficili, da momenti complicati. Li abbiamo passati, li abbiamo passati grazie a una società sempre presente, grazie a un allenatore che si è dimostrato all'altezza molto di più di quanto chiunque potesse credere, grazie ad un gruppo di ragazzi che anagraficamente sono ragazzi ma che si sono dimostrati grandi uomini. Io con diversi di questi ragazzi ho passato molto più che annate sportive, ho passato momenti tra virgolette tragici perché poi per noi il calcio è una cosa importante, per noi il calcio è una cosa seria e nel calcio noi abbiamo passato momenti brutti in cui abbiamo reagito da grande famiglia. Io non mi scorderò mai un post Pietraligure-Rivasamba a porte chiuse, chiuso in infermeria, abbracciato a Filippo Pili. L'immagine di quella giornata è quello che ci ha portato ad essere quello che siamo oggi. Una società pronta, una squadra di uomini seri, di giocatori forti perché troppo spesso ci siamo creduti dei brutti anatroccoli ma noi dobbiamo metterci in testa che siamo una squadra forte. Mi auguro che la maggior parte delle parti in causa di questa rosa perché poi bisognerà analizzare tutto con calma ma mi auguro che il grosso di questo gruppo rimanga per dimostrare ancora di più il loro valore che è ancora di più di quello che avete visto voi quest'anno, ancora di più di quello che ho visto io negli anni, ancora di più di quello che si è visto oggi visto che siamo venuti in casa della squadra probabilmente più forte del campionato per Rosa a giocarcela alla pari. Ecco, tornando proprio alla partita di oggi, che cosa è mancato visto dalla tribuna a questo Pietraligure? Forse un qualcosina nell'approccio un po' timido? Ma no, secondo me era una partita di quel genere lì, era una partita che poteva durare 120 minuti e non si potevano fare gli arrembaggi subito per andare a cercare il gol. Secondo me al primo tempo era giusto studiarsi, si è arrivati nel secondo tempo a giocarci tutto, abbiamo preso un gol sicuramente evitabile ma noi sappiamo di patire sui calci da fermo, non abbiamo grande stratura, ci piace divertirci in altro modo nel campo, sicuramente l'assenza di Domenici oggi sui calci piazzati ha fatto la differenza, abbiamo preso un gol da un giocatore senza senso e senza età. Dopo il loro gol secondo me siamo stati superiori in tutto, abbiamo avuto tre palle gol pesanti, ha parato tutto un ragazzo che io avevo nei giovanissimi quando ero ad Albenga a cui faccio i complimenti pubblicamente, oggi Tommaso Scalvini è stato il migliore in campo senza ombra di dubbio, speravo giocasse così magari contro qualcun altro ma prendiamo e portiamo a casa. A mente calda, che non si dovrebbe un po' fare, dovessimo dare Luca Filadelli, dovesse dare un voto alla stagione del Pietraligure? Un voto alla stagione del Pietraligure? Secco, ti devo dire sette e mezzo perché io dovrei dirvi dieci ma visto che credo... Aspettavamo quello, una società che punta a crescere. No, perché questa è una squadra che deve capire quanto è forte e dando dieci direi in questo momento che più di così non si può fare e invece questa è una squadra di giocatori forti, non solo di bravi ragazzi, a volte l'essere così bravi ragazzi li fa rendere da giocatori meno forti di quello che sono, se lo devono mettere in tasta tutti. Noi come società crediamo fermamente in questi ragazzi e crediamo che nell'arco di qualche tempo si possa arrivare al dieci ma io per dieci intendo solo una cosa. Sì, infatti immaginavamo proprio quello, un'ultimissima cosa quando si rimetterà a lavorare Luca Filadelli. Domani vado a vederla a San Francesco. Lunedì dai, lunedì. Pronti via. Lunedì.